C'è la vela! Spiegate ogni cosa! È troppo pericoloso! Dobbiamo tornare indietro e finché possiamo! Hai sentito cosa ha detto? Vuole che attraversiamo! Cos'è quello? Che cos'è? È un fantasma! No, Tommaso! È Gesù! È davvero il Messia! Pietro! Pietro! Che cosa fai? Non avere paura Vieni! Il Head육 È davvero il Messia, readers possono rostrere la selezione! Perfetto! Pietro! Pietro! Pietro. Pietro, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Voi chi credete che io sia? Sei il figlio di Dio.